Senatore, perché vuole diventare presidente? Oh, è semplice, Linda. Sono stanco di accordi segreti, di corruzione, di sprechi. Sono esausto, sinceramente, e lo sono anche i cittadini americani. Vede, questo paese merita un leader che non si tiri... che... che lotti, che non si tiri indietro se c'è da combattere, che in passato si sia messo contro le lobby e che... che creda che il governo possa essere uno strumento per il bene. Questi sono... mi dispiace, devo concludere prima del previsto. Piedo scusa, ma, senatore, va tutto bene? Lei non può... lei non può essere qui. Ho trovato la cassetta. L'ho trovata. È finita. Senatore Bracken la dichiaro in arresto per complotto. Prode. E per l'omicidio di mia madre, Joanna Beckett. Si volti, per favore. Non è la mia madre. No. Ma oggi è la mia madre. Ma oggi è una mia madre. Ma oggi è una mia madre. Una mia madre. No. Vero. Lo voce. Non ci sono. No. 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 Ci pensiamo noi Aspettavamo da tempo a questo momento È orgogliosa di te Ovunque sia è orgogliosa Non ce l'avrei mai fatta senza di te